amici miei ben ritrovati sul canale sono stato al cinema rondinella di sesto san giovanni a vedere il film vermiglio scritto e diretto da maura del pero che possiamo trovare nelle sale italiane dal 18 settembre del 2024 dopo che ha trionfato all'ottantunesima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia vincendo il leone d'argento il gran premio della giuria non è stato facile reperirlo perché è uscito in poche copie ma fortunatamente a sesto è arrivato quindi non ho perso tempo il primo giorno di programmazione di pomeriggio in sala c'erano molte persone anziane questa cosa mi ha fatto piacere è sempre molto tenero vedere persone di una certa età andare in sala e si racconta la storia di una famiglia molto numerosa a vermiglio nel 1944 negli anni della seconda guerra mondiale quando sta per finire la seconda guerra mondiale e si vuol parlare della quotidianità di questa famiglia con il padre professore interpretato da un bravissimo tommaso ragno che inter che spiega sia i più piccoli ma insegna anche agli adulti c'è un soldato che tornerà dal fronte che che alcuni considereranno vigliacco per averlo abbandonato mentre una delle figlie del professore se ne innamorerà e i due si sposeranno e poi ci si sofferma anche sulle vicende quotidiane di questa famiglia composta da ragazzi da ragazze da bambini da bambine in questa città molto piccola dove queste montagne innevate predominano dove scenograficamente dove registicamente dopo dove a livello di costumi di musica c'è un grande lavoro secondo me maura del pero firma un film poetico un film dolce un film sinuoso tecnicamente molto posato maura del pero si rifà alla sua infanzia perché con questo film voleva raccontare quelle tradizioni che lei stessa ha portato avanti crescendo in una famiglia similare quindi ha voluto raccontare sicuramente di modi di fare che oggi per certi aspetti purtroppo per altri per fortuna non esistono più perché in questo film parliamo dell'ossessione religiosa per dire quando tu hai un pensiero peccaminoso e sei una ragazza ti devi subito confessare perché il piacere non è contemplato se tu rispetti la tua religione cristiana ma si parla anche del delitto d'onore prima se si uccideva una persona perché commetteva tradimento le pene erano lievi perché era contemplato questo delitto oppure si parla anche del dell'uomo che comunque aveva sempre un diverso prestigio rispetto alla donna che era considerata colei che sfornava figli e li accudiva quindi alcune cose sono cambiate ma è giusto che vermiglio racconti di quei tempi che la regista rievochi la sua infanzia la sua crescita la sua adolescenza è un film che ti fa pensare anche a quanto a quei tempi si sguazzasse nella povertà e quindi non c'era possibilità di far studiare tutti i tuoi figli dovevi fare dei sacrifici se tu in certe materie non eri eccellente magari tua sorella poteva continuare gli studi te invece no quindi anche il groppo dentro che si dovevano portare certe ragazze pensando che il mio destino sarà quello di lavorare nei campi sarà quello di spremere le mammelle alle mucche per fare il latte quindi effettivamente è un film che tocca in maniera secondo me intelligente in maniera secondo me per niente retorica diversi argomenti interessanti il ritmo è lento ma mai noioso perché a me due ore sono volate e sono rimasto colpito anche dalla potenza evocativa delle immagini dai silenzi questo è un film che comunica anche attraverso i silenzi che comunica attraverso i non detti attraverso la comunicazione non verbale a livello di cast ci troviamo di fronte ad un tommaso ragno bravissimo nei panni di cesare il capo famiglia insegnante quanto sono belle le scene a scuola quando lui insegna a parlare ai suoi alunni in italiano perché il dialetto predomina c'è molta ignoranza le persone non sanno scrivere lui insegna anche agli adulti poi abbiamo giuseppe de domenico abbiamo roberta rovelli nei panni di adele un personaggio che sarà importante così come quello di lucia interpretata da martina scrinsi c'è carlotta gamba che da poco avevo apprezzato nella splendida serie dei d'innocenzo dostoieschi qua interpreta virginia una ragazza che fuma una ragazza che vive la sua vita come vuole che potrà essere presa come punto di riferimento da chi invece è ossessionato da questi da questi dettami anche della religione della chiesa non si possono fare certe cose ad un certo punto io vedo una ragazza che invece ha il coraggio di essere libera la posso prendere come punto di riferimento e dire ma se anch'io vivessi come lei quindi vediamo i primi turbamenti vediamo le prime idiosincrasie di queste ragazze di queste giovani ragazze che credono nell'amore un amore che potrà essere salvifico ma si parla anche di menzogne si parla di bugie si parla di cose che esistono tutt'oggi certo ai tempi i modi erano differenti nel bene e nel male ma maura del pero firma veramente un film raffinato un film sentito un film di cuore che ho trovato decisamente bello io vi invito a vederlo fra le altre cose è stato anche selezionato per rappresentare l'italia i premi oscar del 2025 per quanto riguarda la sezione miglior film internazionale io non credo arrivi nella cinquina finale ma mai dire mai quest'anno con il leone d'argento sono rimasto ampiamente soddisfatto a differenza dell'anno scorso lo so che qua alcuni mi lapiderebbero ma io ho proprio trovato irritante il male non esiste di amaguchi un esercizio di stile ridondante è veramente nullo alla fine non mi ha comunicato alcunché pur amando il cinema anche più lento più riflessivo pur amando il cinema asiatico se vogliamo ma vermiglio è uno di quei film che riguarderei sempre volentieri bravissimi tutti bravissime tutte fatemi sapere la vostra nella sezione commenti nel caso l'aveste visto altrimenti ve lo consiglio caldamente è sempre bello vedere una regista che rifacendosi alle proprie tradizioni ripensando al suo passato è bello vedere come lo faccia rivivere in questo film fatto con tanto cuore e tra le altre cose ho letto che durante la lavorazione lei ha deciso di realizzare questo film dopo la morte di suo padre e ha fatto anche diverse interviste alla popolazione locale nel corso della preproduzione per rievocare al meglio quel periodo storico bellissime anche le scelte delle musiche dove troviamo chopin dove dove troviamo vivaldi le stagioni di vivaldi no troviamo della musica classica che in dei momenti parla più di qualsiasi altro dialogo retorico oppure didascalico i costumi la ricostruzione dell'epoca è un film che a livello di di suggestioni a livello di riflessioni mi ha fatto un po ricordare le otto montagne che mi era piaciuto tanto anche più di vermiglio però ecco distribuito distribuito scusatemi in italia dal lucky red la fotografia di michael krikman è assolutamente degna di nota fatemi sapere la vostra per questo bel film italiano che merita di essere visto che merita di essere scoperto e mi auguro realmente che con questo bel passaparola possa avere più sale nei prossimi giorni possa avere sempre più successo perché comunque è costato oltre i 4 milioni di euro io adesso faccio un minimo di spoiler per dirvi nello specifico quel che più mi ha colpito dunque ci sono dei momenti che proprio ho trovato buffi nel senso più positivo del termine anche e anche teneri per dire la ragazza che si si masturba nascosta dietro l'armadio e finge con la sorellina in realtà di star pregando e lei ha questo bisogno ma è giusto è un adolescente purtroppo dalla vita non ha avuto quella fortuna che ha avuto invece la sorella più piccola che è stata mandata a studiare fuori lei non eccelle quindi si lascia andare a un certo punto troverà anche questo quaderno con dentro delle fotografie erotiche di donne nude quindi è come se guardasse quelle donne pensando pensando a se stessa facendo dei confronti e si ritrova a masturbarsi dopo anche aver visto la sorella che si bacia con quello che poi diventerà suo marito e lì ci saranno altre brutte conseguenze e le scene in cui lei si masturbava e poi pregando perché era impaurita che dio potesse punirla e quindi pregandolo gli dice non lo farò più se lo rifarò dormirò nella cacca delle vacche e metterò la testa proprio dentro fino a che non si arriva al momento estremo in cui lei si ritroverà a mangiare la cacca delle galline per 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 punirsi si auto punisce in questo modo ed è una cosa molto ingenua però se ci pensiamo una scena che può far scaturire un sorriso ti fa anche riflettere su quante persone realmente pensassero che così facendo peccando si infra si infangasse il nome di dio cioè robe dell'altro mondo come se il piacere fosse una cosa da tenere distante mentre la sofferenza di una quotidianità priva di tutto quella invece va accettata però erano altri tempi oggi siamo passati per dire da un estremo all'altro è tutto consentito ai tempi servirebbe a volte forse la via di mezzo per rispolverare anche quei modi di fare cortesi quei modi di fare che una volta potevano esserci più rispettosi dove però osservando bene si vedeva sempre l'uomo il padre famiglia con più potere della donna che addirittura dice tu mi hai mancato di rispetto davanti ai miei figli solo perché gli faceva notare di non aver di non aver mai portato alla moglie un mazzo di fiori di fiori nei dieci parti fatti e poi anche questo finale in cui la moglie è nuovamente incinta perché è un film che finisce e già ti fa capire quale sarà il futuro di quel periodo quelle tradizioni che proseguiranno anche la storia della ragazza che si sposerà con questo militare per poi leggere sui giornali che in sicilia aveva già un'altra moglie che essendoci il delitto d'onore con una pena misera comunque gli spara e lo uccide quindi in paese anche qua le differenze fra ieri e oggi è normale tradire è normale fare tutto ai tempi anche cesare viene poi sminuito come uomo non lo fanno più sedere al tavolo nel bar dove c'era questa gente questa gente proprio misera di pensieri di idee anche di di sensibilità quando i soldati tornano dal fronte che loro con i loro culi a sedere sulle sedie a bere sono pronti a dire sono dei vigliacchi andrei a dirlo a tutti giù in paese giù nella valle andateci voi in guerra e poi ne riparliamo invece bellissima la frase di cesare se tutti fossero vigliacchi la guerra non ci sarebbe più cavolo quindi è un film dove veramente cesare tommaso ragno ma ripeto anche la figlia che poi scopre questa cosa che andrà in sicilia che poi riuscirà a sorridere alla sua antonia dopo dei periodi molto negativi ma dovrà superare delle prove dovrà ritrovare se stessa sicuramente non sarà un film esente da difetti potrà migliorarsi sempre più maura del pero ma alla sua seconda opera non ho visto la prima maternal ma già dal titolo anche lì si fa riferimento alla maternità sicuramente convince e sorprende ma così come sono teneri i bambini mentre parlano nella loro ingenuità quando il bambino dice quando sarò grande andrò in guerra non ci sarà alla guerra quando sarai grande però che tenerezza cosa ti cosa ti ha portato santa lucia due mandarini veramente la bellezza anche dell'ingenuità proprio la felicità che scaturiva dalla dalla povertà che non ti dava niente ma che ti sembrava tutto oggi siamo abituati ad avere qualsiasi cosa e non ci rendiamo conto di quel che han passato delle persone a noi vicine anche prima di noi i nostri nonni i genitori dei nostri nonni quando realmente esisteva la sarà retorica ma oggi cavolo noi buttiamo via anche il cibo che non ci va quando ai tempi e io sono il primo a farlo quando qualcosa non mi va quando ai tempi cioè questi mangiavano due mandarini quindi ecco vermiglio è un film che vi consiglio assolutamente ma se mi state seguendo qua vuol dire che l'avrete senz'altro visto io vi abbraccio vi saluto bravissima anche carlotta gamba che interpreta che interpreta questo personaggio che poi verrà visto con occhi di stupore e poi però magari anche quella libertà potrà servire perché un po di libertà ha sempre c'è sempre bisogno di un po di libertà per non vivere così ostacolati da tutte queste pressioni che la società vuole imporre e secondo me vermiglio è un film che guarda il passato ma che ti fa riflettere anche sull'oggi sui cambiamenti sulle differenze e quindi brava brava maura del pero un saluto e alla prossima